Nomadi in concerto live tour il 20 dicembre al Palazzetto dello Sport di Castelfiorentino. Abbiamo ai nostri microfoni l'organizzatore Marco Cappellini. Ciao, benvenuto a Radio Bruno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, una festa importante, quella con i Nomadi. Parliamo del prossimo 20 dicembre. Un onore ospitarli a Castelfiorentino. Sì, per noi è la seconda volta che passano da Castelfiorentino. L'anno scorso ci omaggiarono con la data al zero del tour. Quest'anno la data al zero non è stata possibile, però siamo riusciti ad averli ancora una volta in concerto proprio qua nel nostro paese. Un concerto che abbiamo organizzato per beneficenza, dando il ricavato alla Casa Famiglia di San Martino, che è un'area già molto importante qua di Castelfiorentino. Ecco, lo vogliamo dire appunto, uno spettacolo di musica, di divertimento, di grande musica italiana, ma come ha detto anche di solidarietà, perché chi verrà a trovarvi e chi pagherà il biglietto avrà anche il modo di fare beneficenza. Certo, qualunque, tutto rinavato del concerto verrà dato completamente in beneficenza. Solte le spese, poi tutto sarà dato alla Casa Famiglia di San Martino, che ospita appunto ragazzi tolti dai nube familiari e che qui portano avanti un'esperienza di crescita e di reinserimento. Allora, vogliamo ricordare l'appuntamento dove, come e come è possibile acquistare i biglietti? Allora, il concerto sarà il 20 dicembre a Castelfiorentino, presso il palazzetto dello Sport in Viale Lusselt e i biglietti possono essere trovati in vari punti di vendita della zona oppure consultando la pagina internet dei Nomadi o la pagina Facebook dell'evento che è Nomadi a San Martino, in cui troverete tutti i numeri di telefono e tutti i venditori della zona e tutti troverete un numero in cui è possibile effettuare la prenotazione dei biglietti. Allora non ci resta che fare un invito ai nostri ascoltatori? Bene, noi vi aspettiamo tutti il 20 dicembre a Castelfiorentino per un concerto dei Nomadi e per scambiarci insieme ai Nomadi gli auguri di Natale.